Ciao a tutti, sono Gianfranco Gandolfi, il bandito gentiluomo. Ho organizzato qui a San Giuseppe di Chiasola, nei pressi di Bassano e Grappa, il festival Le Notti del Bandito, di una crudele bellezza. Attenzione a questo titolo che poi nel finale vi spiego il motivo anche. Allora, è un festival artistico-culturale che comincerà il 21 aprile con il concerto dei musicisti Bigazzi Ferri. A seguire Pierpaolo Capovilla leggerà Pasolini. Il 22 aprile si apre con due musicisti locali di formazione classica, Crivellaro e Motta. A seguire la cantotrice padovana Deborah Petrina, si esibirà assieme lo scrittore Tiziano Scarpa in un mix di musica e racconti. Il 23 aprile sul palco del Mephisto Ballad, gli ex Litfiba Aiazzi e Maroccolo, assieme a altri quattro noti musicisti, aprirà Tallea, cantotrice marchigiana. Il 28 aprile festeggiano i 30 anni di attività in Radio Fiera, gruppo Veneto Trevigiano, con in apertura un cantatore molto locale di Cassola, Raul Bortolon. Il 29 aprile Nicola Lotto, cantatore padovano, aprirà il concerto di Paolo Benveniù, ex cantante dell'Iscisma. Il 30 aprile ci sarà Maria De Vigili, che canterà canzoni rock, a seguire Carlotta Pleps nel suo Tanterlock a solo di danza teatro. Ringraziamo Ivano Costenaro per averci ospitato in questo spazio meraviglioso della teatrino raccolta a Costenaro. Come vedete, ceramiche fantastiche. Vi aspettiamo quindi numerosissimi al Teatro Vivaldi di San Giuseppe di Cassola per le notti del bandito, di una crudere bellezza, perché abbiamo tutti bisogno di recuperare un rapporto con la bellezza, che non deve più essere crudere, ma deve essere bellissima. Quindi venite tutti!